ciao spettinati ciao zamp ciao dani ciao fazza ciao pezzo di merda ciao johnny creek mister baktaglia bene come vedete siamo qui per l'ennesimo quarto di finale di champions league quelle famose partite che avete già visto dove ci sono state delle famose sfide accese e io ho cercato di non bestemmiare anche in questo caso cercherò di non bestemmiare ma le partite sono sempre più impetuose avete giocato gli arbitri non lo so ho fatto stac io ho fido tutto sulla grande tecnica ma sneider in teoria non dovrebbe nemmeno essere no no sneider c'è no sneider c'è ci mancherebbe altro che non ci fosse sneider ah già no perché l'inter non gioca niente niente noi usiamo le squadre quelle ufficiali diciamo così l'arbitro oh sasha gray il 13 aprile sta a bologna danni dai bene sono notizie fortemente interessanti sono molto a contatto con la champions league vabbè come che sia a questo punto il commentary cerchiamo di farlo un po' più edulcurato rispetto agli altri eh senza bestemmi ragazzi tutto lì senza bestemmi eh lui senti da che pulpito ho il codino ho il codino porco ma perché hai messo Diego Lopez in porta? ma che cazzo ne so hai messo Diego Lopez in porta e casinasi in panchina perché ha avuto dissapori con Murigno è giusto è giusto si è menato botte giusto così mi ha sgarato dei botte poi dai c'hanno il Galatasaray qui in questi chazzi potranno mai segnare gol mamma mia può vincere Galatasaray sei a zero vanno già vincendo ahia gol sì sì ma perché la telegame mi si è buggata? ma che oh oh gol mamma mia è uno gol attenzione mamma che pera non ho mai fatto un gol così in vita mia ragazzi Johnny Grick sempre a tirarla io non ho parole ma cos'è sto gol? tutta colpa di Diego Lopez vai Patua ora è in salita attenzione si apre inaspettatamente per il Real Madrid che andava con l'impressione di avere la partita già in tasca ora orca puttana in tasca io ti ci metterei i sassi quando fai ste robe chi è sto qua? proprio i sassi che sassi? i sassi quelli di vai 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 ora questo qua tira e fa gol tranquilli mamma che rispione tranquilli bravo Zampletti Zampletti PD ma a me ogni tanto scatta la partita vuoi vedere i tiri buggati? eh? vuoi vedere i tiri buggati? oddio che missile subatomico tira tira si mamma mia shut up bitch shut up si diesel non vi senti dai ha segnato l'alter ego ha segnato l'alter ego di battaglia dai sto senza nafta sono senza nafta ho sbagliato strada porco non posso fare una replica ufficiale se no se avesse avuto un tom tom oh troppo spazio comunque in tutto questo Johnny Crick non fa mai niente è inutile è un giocatore inutile cosa stai dicendo? che so il perno della difesa oh mamma madonna dove l'ho tirato? che sono persi nel Galatasaray? eh se non sai tirare Johnny Crick si bellissimo oh gol della merda la passamela passamela ma no Zamp fai schifo ma io te la passo più ma ha laggato ma è ultra offensivo non hai messo ultra offensivo no ma che son matto credo a me sta laggando in una maniera mostruosa eh si tanto il gameplay il mio lo vedi che lagga poi mamma mia prendile la gameplay Johnny Real Madrid chiuso Zamp che anticipa attenzione Zamp non si scherza il campione di foot per Agoto puoi tirare con Snyder eh Danny eh si ho già fatto bene a macellario in tutto foot 2013 15-16-17 figuri se tira un'altra volta ciao ciao cosa ha detto? cos'era? un menu della pasta? che era? no era una super cazzola ma nooo ho capito che non c'è il fuori gioco ma il campo è finito che cazzo è uno schema così che non esiste bellissimo bella oh ma sei coato eh con Galatasaray non si passa Drogba che palla mette che palla mette che palla dio tranquillo mettiamogli affanno con questi pensando di aver recuperato adesso sono sicuri Giaia ma passala no no mamma mia hai vinto e mi hai coltorsino Johnny mamma mia yeah DDE DDE Drogba tutte di testa Zamp si mangia il gol battaglia e recupera di di capoccia che poi ha mangiato via non era facilissimo via attenzione a Real Madrid tranquillo tranquillo sì lì lì è sempre lì Zamp ad anticipare oh 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 ma perché non c'è la difesa nel Real ma cacare metto ultradifensiva ma cos'è oh che cazzo succede DDE DDE tranquillo tranquillo cala il silenzio nella chiamata il Real Madrid sa che non può perdere tranquillo solo per lo spettacolo e addirittura in casa solo per lo spettacolo ma il vostro lì 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 mena ma il vostro Ronaldo in tutto questo no sti passaggi coglione smetti gol smetti gol no 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 non si può Johnny Crick ma che sfega se ogni tanto faccio una stronzata è perché lagga sì sì laggerà però cazzo che anticipo oh 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 Dio 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 fottigliela sborone t'ammazzo no no che roccella di mezza tuff oh ma che è quella scivolata hanno capito una caponzi all'osteria numero 2 vieni 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 vai a fare in culo zampetti ma chi è l'host della colcomun sono qui c'è un luck monster perché Johnny non riusciva a entrare sennò sì ho avuto leggerissimi problemi con Skype passate la difesa nel Gara Tattaro tipo ma Zinga aveva conquistato il mio Sky no sei fuori riapri riapri lì oh riapri ma non era fuorigioco ma che fuorigioco io non sto mai in fuorigioco non è vero fuorigioco nettissimo ma cosa fa è impazzito è impazzito via via io non glielo passo più è impazzito è impazzito e volevo fare il pallone è fuorigioco forza diesel forza dio no diesel è il pulcino dio è il pulcino dio mamma mia Zambio sempre in intercetto occhio oh che cazzo succede oh dammela 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 al centro mamma mia che veneziano mamma mia la Venezia di battaglia mamma mia c'era ancora la battaglia di Venezia tira mette giù dribbla Zambio il tiro mamma mia cosa ha peso ma hai capito chi è quel nasone ho il capito oh ma dai Zambio era da soffiare cazzo era da soffiare cioè come può essere così lento ma chi è ma che cazzo è dove è andato qui qui ma aspetta ma perché ha tirato subito stai baggando ho detto che il Real Madrid aveva un certo Ronaldo in squadra che cazzo è ho visto fare grandi giocate che cazzo succede sta baggando tutti i tasti nooo quello lì è Ramadam quello lì è Ramadam Zambio in centrocampo non perdi mai porco no è Ramadam è Ramadam il pulcino bio è tua è fatta tira ziii vabbè ha fatto cagare sotto ma dai smerdutto zii ci ha segnato sweaty goals mamma mia Fazz non stava per tirare Zambio Zambio perché hai fatto quella roba lì me la spieghi poi cosa ho fatto eh quella cagata lì ma dai diamogli un po' di speranza ma porca di quella puttana sì Cristian Cristian zio ma è Cristiano Ronaldo che ha spaccato tipo il naso uno con una pallonata e gli ha dato la palla poi ah mi lo sai le skill a random di battaglia che funzionano sempre cossala via 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 toccano al campione era gol era gol eh sì era gol era gol Ronaldo stava già correndo è partito c'è di seven due tiri per il Real due gol che schifo mamma mia importante è palla quando supera linea esatto l'importante è palla quando supera linea ma cosa vuol dire io il giovane padawan oh fofo cos'è chi è questo qua ucciso oh Johnny Grigg il mostro sì sweaty goal sweaty ma dov'è la difesa no tre tiri tre gol che action che action cristiano è schifo è fatta a sto destro e qui state ma non è fuori gioco no io sto sempre sulla linea mettitela al culo una vita sul rasoio sul rasoio oh vai 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 bravissimo non era male non era male l'idea c'era ma con la luce dai ma su eh l'ho fermato sweaty goal sweaty goal eh va bene no mamma mia no 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 ma perché dai falli a random io boni dai dai me lo sento questo è il gol terror hai fatto lezzo in sta partita te lo dico eh bellissima azione a centrocampo le ho fermate Dani a centrocampo le ho fermate tutte io ho capito ma non metti una palla in porta se non mi arriva la palla posso tirare da centro oh 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 ancora ma chi è quello lì in difesa è la mia è una spazza quadrato quadrato chi non nasce quadrato muore rotondo aiuto dalla dà dice che ha mal braccio via eccolo il gioco del rimpallino eh oh si si lì 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 chiudilo eh sì vabbè ciao Marcello Mastroianni qua ci ho provato dai Dani su concentriamo eh ho già fatto le mie due pere più di così guarda cosa ti do guarda cosa ti do vieni al centro Faz tranquillo ma dai che l'avevo passata culo oh porca puttana ma è rosso quello eh non ci spancate io bellissimo tacco cazzo fa che cazzo sta succedendo tira tira che gol rosso sono tutti pippati Dani Dani che sto creando crea besta mia guarda che palla che t'ho creato stop e tiro rigore 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 io non ho visto nulla arbitra io io non ho fatto nessun fallo soffiala dentro ma oh che recupero quello era rigore più netto del fatto che la terra giri intorno al sole infatti la terra corri Kerim corri oh vabbè però dai Zamp quando fai ste robe sei una roba allucinante cos'è sta roba fate non so tranquillo è tutto sotto controllo wop 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 ganga amstai ganga in du culo Zamp è sempre lì sa dove andrà la palla eh sai dove va la palla fra un po' che non la prendi brandissimo brandissimo non sapevo a chi fa ma non mamma mia che pallone di battaglia fallo uscita fallo uscita gol della merda gol della merda no vede non avete gioco di squadra che cosa facevo non c'era in mezzo erano in due no si no oh sta baggà gol della merda bravissimo oddio c'hanno un culo shut up bitch mamma mia stupid vada vieni dritto si si alza lame dai faz accentra faz alza lame va bene alza lame forza contropiede sione cos'è sto lag mostruoso dai dobbiamo partire in counter attack perché parla come terminator johnny mi sa che sei te che ti stai buggando può essere sento tutti i terminator ciao johnny ciao johnny è tornato dov'è sarà connor oddio non sento nulla faz non ti sento non so gameplay con l'handicap io se vi sentite non sento più nulla ho capito tirala no 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 non ci credo guarda no dai io vado via da sta partita oh stranzo faz se mi senti via no vabbè ma non è possibile una roba così dai danni non è detta l'ultima parola ma come non è detta ma porca la puttana di quella troia ma se c'è puttala via se ci abbiamo la sfiga che vuoi la sfinta eh no aiuto no no ancora 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 si ancora e guarda quello gli rimbalza come le foche figa ma porca la puttana spazza sempre spazzare bellissimo rosso è una fallo quello falla il bellissimo rosso fantastico perché non cade cos'è Hulk mamma mia ma che palo è pronto quello che va a tirar di testa piano che nervoso che è sto tiro oh parlate ammazzati ti risento buon per te oh fa cazzate vai lo sei t'ho insultato in tutto il commenta di quando mi sentivi io sentivo Terminator no Dani eh no Dani come la stop quella santa la mattina dai Dani ulta difensiva sì Dani sì sì tu mi piaci vieni a casa mia grossa grossa no no credo ma basta ma chi c'hanno in porta Cristo con gli angeli che recupero Diego c'hanno Cristo con gli angeli in gloria in porta con gli angeli fai fallo fallo ah vedo vedo calma quadrato quadrato su quadrato immeritata immeritata chi hanno fatto quattro tiri in porta cazzo si vince e si perde cato zamp ci vediamo al ritorno però amici figli di puttana intanto siamo una vittoria per noi un pareggio per noi una sconfitta e quindi potrebbe succedere di tutto vedremo nel ritorno perché avete solo un gol di vantaggio in casa lasciate un milione di mi piace ciao fratelli cazzo fratelli